Elon Musk fa un annuncio sconvolgente, grande occasione per Ripple. Ciao caro amico investitore, come vai? Bentornato sul mio canale, io sono Andrea. Oggi qui come sempre a parlarvi delle ultime novità sul mondo delle criptolute. Infatti è arrivato un annuncio da parte di Elon Musk che potrebbe cambiare completamente il modo in cui utilizziamo X, ex Twitter, e XRP ne potrebbe beneficiare, ma ne parleremo nel video. Ora, molti di voi che guardano il prezzo di XRP si stanno chiedendo proprio perché Ripple sta scambiando in modo laterale. Infatti, come possiamo vedere tramite il grafico di CoinMarketCap, è da diverso tempo che sta lateralizzando. Questo perché essenzialmente non c'è stato nessuno sviluppo importante nello specifico. E anche dal fatto che nel breve termine potremo vedere anche una flessione. Questo perché già un gran numero di balene sta vendendo i loro Ripple, esattamente per un valore di 55 milioni di dollari. Tuttavia, nel complesso abbiamo molto più da guardare avanti nel lungo termine. Come chi mi segue da da tempo sa già che dietro le quinte si sta muovendo veramente qualcosa di grosso. Ma oltre anche dall'ultima novità appunto di Elon Musk. Però prima ovviamente dobbiamo parlare di questa vicenda qua delle balene che stanno appunto scaricando 55 milioni di XRP esattamente da un mese. Questo ci suggerisce un possibile previsione al ribasso dei prezzi di XRP nel breve termine. Però sicuramente gran parte delle azioni sui prezzi dipenderà dall'esito della causa tra la SEC e Ripple. Infatti, anche come leggiamo qua, il grande sostenitore, l'avvocato sostenitore di RixRP, ha detto che esiste una possibilità che la SEC possa decidere di non portare il caso in giudizio dopo aver perso parzialmente la sentenza a luglio. Ma nel caso si giunga ad un accordo, la SEC chiederebbe 770 milioni di dollari come importo. E noi sappiamo già che Ripple ha vinto già il primo appello e anche il ricorso che aveva presentato la SEC è stato ovviamente negato dal Giugice Torres. Anzi, probabile che il prossimo anno appunto si trovi un accordo tra le due parti e si chiunca uno dalla vicenda. Quindi per questo nel breve termine potremo vedere una flessione del prezzo. Quindi volendo potremmo avere delle buone opportunità per accumulare a prezzi migliori e ottenere rendimenti migliori sul lungo termine. Oltre questo possiamo proprio anche vedere che il portafoglio affiliato di Ripple ha trasferito 50 milioni di XRP messi in staking su FTX. E anche questo è un grande movimento della balena che suggerisce una flessione del breve termine. Oltretutto anche il caso appunto di Sandbank Freed di FTX che giungerà ovviamente a termine potremmo aspettarci che un sacco di XRP venga spostato. Perché si tratta poi di una delle più grandi partecipazioni che possedeva FTX. E quindi potremmo vedere anche lì un calo di flessione del prezzo. E dato che poi i clienti con sede negli Stati Uniti stanno finalmente ottenendo l'accesso ai loro propri fondi. Che ovviamente è una cosa super positiva per gli investitori dopo tutto quello che è successo. Non mi sorprenderei del calo del prezzo. Ma ehi come ho già detto da tempo il prezzo al momento è rilevante ora da guardare. Anzi è buono da guardare se ci sono ottime opportunità di ingresso. Però ora passiamo alla grande notizia quella appunto di Elon Musk dove vuole trasformare X in una piattaforma finanziaria completa entro un anno. Questo significa che X andrà a sostituire le banche. Questa piattaforma finanziaria non avrà solo scopo di archiviazione del denaro ma anche opzioni azionare. Si potranno quindi acquistare azioni si potranno acquistare criptalute e molto altro ancora. Questo è un progetto pensate che aveva già in mente quando aveva creato Paypal. Pensate parliamo nel 2000. Poi appunto si è allontanato Elon Musk da Paypal perché non stava prendendo quella direzione che lui intendeva. E se ci pensate è stato anche molto visionario a quel tempo. Ora vuole riprendere in mano questo suo obiettivo e renderlo realizzabile grazie a X. Infatti possiamo anche proprio leggere qua. Quando dico pagamenti in realtà intendo dire l'intera vita finanziaria di qualcuno. Se si tratta di soldi sarà sulla nostra piattaforma denaro, titoli e altro. Quindi non è semplicemente come inviare 20 dollari al mio amico. Sto parlando del fatto che non avrai bisogno di un conto bancario. Quindi esattamente X diventerà proprio come una banca. E pensate solo all'utilizzo del token di XRP all'interno di X. In quanto già viene usata da milioni di utenti questa piattaforma qua in tutto il mondo. Oltretutto XRP è molto popolare su Twitter. Ma questa è soltanto una grande altra opportunità potenziale che ha Rippo al di fuori di quello che ho già detto nei precedenti video. Sicuramente questa trasformazione che vuole fare Elon Musk potrebbe essere la porta di accesso all'adozione di massa. In questo mondo che sta andando veramente molto veloce. Oltretutto pensate solo se XRP Rippo prende il 10% di tutto quello che gira dietro. Diventerebbe veramente pazzesco. Bene ragazzi come sempre se vi è tornato utile il video spaccate il tasto dei like, iscrivetevi al canale. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.